buonasera come state ragazzi è ripartita l'italia è ripartita l'italia sto giro se proprio completamente siamo veramente anche i negozi hanno riaperto anche i bar gli orsi i cinesi su fa insomma ci stiamo muovendo bene sta andando bene tante cose meno male meno male ma come sono contento ma anche oggi proprio relax perché vedere tutto aperto la gente si anche con le mascherine però l'italia si muove l'italia sta risalendo quindi è una giornata stupenda ecco che mi sta venendo a fare compagnia un bel cagnolone nero c'è un bel cagnone nero speriamo che non mi voglia mordere ecco che parola l'hanno richiamato anche oggi sono in mezzo a natura sotto la pianta di amarene i bar ciao 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 micone mio chiamatese doc e che volevo dire sì mi ero un attimo perso no ecco anche se i bar hanno riaperto preferisco affrontare in un altro periodo di andare al bar per un momento preferisco ancora stare diciamo nella natura sì se non fosse per magari andare a prendere un caffè tutto quanto ma opterò più che altro per qualche bar magari che c'è un dehors fuori meno manteniamo le distanze insomma non c'è l'obbligo della mascherina stando a distanza si potrà anche consumare qualche bevanda al di fuori l'ora si ricomincerà a socializzare però per questi giorni preferisco ancora scusatemi preferisco ancora così gustarmi ancora certi momenti prima di ritornare nella 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 follia del consumismo che adesso poi logicamente ci saranno un aumento di frequentazione dei nei luoghi di socializzazione no tipo agli orsi finalmente hanno ritirato sulle saracinesche la maggior parte dei negozi quindi non è più quell'ambiente cupo dove poco tempo fa io lo ammetto mi ero messo anche a piangere tanto che c'era solo la coppa aperta tutto chiuso tutto preso tutte mascherine madonna inquietante giorni come questi potrei tranquillamente andare agli orsi a farmi un giro in realtà un giro oggi l'ho fatto sono andato a vedere al biela scarpe se c'era qualche offerta ero andato all'outlet cercavo qualcosa di leggero qualcosa di ecco perché io patisco tanto il caldo allora visto che non si può andare in giro praticamente nudi ecco quando mi vesto devo vestirmi sempre giro cercavo qualcosa di di leggero adesso probabilmente stando chiusi i magazzini degli outlet erano c'era roba abbastanza predisposta all'autunno inverno insomma poi logico a un atlet non si può pretendere di trovare la roba diciamo giusta tante volte gli outlet c'è roba che sarebbe l'invenduto quindi magari adesso in auto e c'è roba invenduta da stagione invernale barra primaverile però si avrei potuto prenderlo col concetto di dire tanto la userò ma niente al momento oggi ho dato solamente un'occhiata non ho acquistato niente tanto meno male 4 stracci da mettermi addosso se li ho quindi rivaluterò magari ecco di andare magari in un bel negozio possibilmente ecco biellese e prendere qualche qualcosa di leggero magari qualcosa in lino qualche camice in lino sandali aperti ecco roba proprio che non mi faccia scaldare troppo perché patisco il caldo e questo è un grande problema invece stasera sono di nuovo ritornato sotto questa mia bella pianta di amarene che sto aspettando tutti i giorni che 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 vengono fuori qualche marena qualcosina in alto sta arrivando allora magari ecco senza rovinare ricchi ciao richard ti chiamerò presto è ti chiamerò presto ciao ciao caro è la valle si che che si sta freschi in sto periodo è io vorrei venire in valle a proposito possiamo trovarci anche come già programmato a dicembre in quei giorni magici che è stato il tuo dio al celibato e soprattutto il tuo il vostro matrimonio ecco con tutti i nostri amici valdostani possiamo organizzare una scampata tanto ora se non mi sbaglio poi dal 23 si può andare anche fuori regione senza liberatoria perché cirio il presidente della regione piemonte ha detto che comunque si può sconfinare perché i numeri lo permetteranno quindi da 23 in poi sarà possibile venire anche in valle andare in queste bellissime aree attrezzate e fare ecco le nostre belle feste come come ci siamo programmati poi oltretutto la valle d'aosta è ben servita anche ti danno anche proprio barbecue la legna le toilette tutte le aree valdostane hanno anche il servizio ristoro comunque il bar di versi un bel genepi quindi è una cosa che ci terrei molto molto a fare richard a parte beh poi visto che tu fai spola tra la valle e biellese vedersi che si potrà adesso lunedì non posso perché ho da andare da un amico a fare un paio di questioni ecco un paio di questioni ha bisogno di una determinata cosa allora devo andare un attimo però martedì potremmo già vederci ma comunque ci aggiorniamo dicevamo che sono sotto questa mia bella pianta di amarene una sera vengo con un bel bastone telescopico sai ho un bastone da passeggio telescopico ci metto un gancio mi tiro giù i rami e mi raccolgo le ciliegie cellici le amarene perché le ciliegie onestamente non ne vado matto invece amarene mi fanno impazzire quando sono proprio buone così allora senza rovinare i rami senza è così col bastone tiro giù raccolgo le mie belle amarene perché le più belle sono sempre in alto e ce le mangeremo in diretta ecco così per divertirsi un po mi sto guardando stasera è ora di no che mi faccio la maschera ragazzi allora saranno le troppe sigarette saranno radicali liberi guardate che rughe no 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 devo farmi il lifting ecco così dobbiamo un pochettino perché ragazzi sto invecchiando le rughe non quelle di espressione guarda che rughe mamma mia niente vabbè devo contattare la mia amica che a parte che la contatto perché sapete la mia passione per la pedicure infatti proprio anche ieri mi sono dedicato due ore alla cura dei miei piedi perché per me è indispensabile avere la salute parte dei piedi quindi indispensabile curarseli ieri a forza di portare queste scarpe antifortunistiche era apparso aveva cominciato ad apparire un inizio di callo nel pollice anche perché le scarpe antifortunistiche insomma dopo un po si non sono troppo strette il piede balla un po e si forma forma di callo io calli nei piedi non ne voglio duroni non ne voglio e quindi sto sempre lì che me li metto a posto e quindi ieri proprio mi sono fatto una cura completa di anche pediluvio con ho levato via i vari calli calletti poi creme emollienti e tutto quanto ora però devo cominciare anche col volto di nuovo rifare la mia sessione di cura notturna soprattutto anti rughe probabilmente qualcosa con acido ialuronico per evitare vabbè dai il cappello possiamo anche levarlo stasera tanto però porca miseria non voglio invecchiare ragazzi non voglio invecchiare voglio essere bello come quando avevo vent'anni e brutto invecchiare che succede mi sta dicendo ruota al tuo dispositivo ma che cazzo passo il telefono ogni tanto fa un po qualche fa un po qualche cosa sul telefono intanto gira rigira i misteri misteri ecco oggi ho fatto la spesa ho preso una una cosa buonissima che magari visto che ieri a cena e oggi a pranzo avevo della pasta che la moglie non mangiano allora mi sono fatto la pasta ieri a cena e anche oggi a pranzo però c'è in pratica pasta cena passa pranzo io allora sappiamo bene precisiamo una cosa io sappiamo che le persone meridionali i meridionali adorano mangiare la pasta sia a pranzo che a cena proprio una cosa culturale io onestamente nella mia vita è difficilissimo che faccio pranzo e cena o cene pranzo dopo con due cose dello stesso tipo la pasta perché a me tranquillamente anche senza pasta posso mangiare lo stesso è stata un'eccezione questa cosa da dire ma sì dai faccio fuori la pasta ma mi è rimasta poca mangio qualcosa un po di taleggio con la pasta insomma mi sono fatto un piatto un po così però sono un po valordo perché non sono abituato a mangiare troppa passa non mi va non mi va devo sempre avere un po di distanza per un po di carboidrati quando invece le proteine tranquillamente mi non mi stancano mai perché la proteina è una cosa che comunque non so e mi riempie di meno però mi dà più energia invece carboidrato ecco mi riempie tanto dura tanto ecco la sensazione e mi dà sempre quel peso di pesante quella sensazione di pesantezza e o non è che ne ho fatto tanto ho fatto cioè 200 grammi a crudo non è che sia tantissimo mangiando solo quello non è che sia c'è proprio sono quelle paste un po non lo so allora ho comprato la puccia salentina sto pane casereccio stasera mi faccio dei pomodorini tagliati proprio così olio origano ecco la puccia salentina bo mezza cipollina e mangiamo un qualcosa di fresco e di gustoso così domani volevo prendermi del fegato non ho detto che magari domani mattina vado premi del fegato lo trovo al lo trovo al al fammila lo trova fammila però il discorso è questo allora cioè per la gran carità quando si va a prendere il fegato è vero che uno magari il fegato va in macelleria e ti fai fare quello che vuoi quando lo vendono in vaschette io prendo un fegato di vitello perché buono ma non voglio fare allora sto telefono mi mi sta facendo un po tribulare mi sta girando tutto quanto prendo fegato di vitello perché è buono fegato di suino non lo mangio anche se poi alla fine cambia poco però non lo so quello di vitello così però il problema non è spendere 5 barra 6 euro per prendere il fegato chi se ne frega ma non perché si è chissà che cosa il discorso che buono vado al ristorante mangio bene a casa mia e 6 euro per farmi un piatto da mangiarmi va benissimo farlo però il problema è che quando si compra la roba confezionato teme mettono dentro sempre veramente tante c'è vai pagare 6 euro perché magari ci sono quattro bistecchi di fegato 3 barra 4 io quando niente mi prendo il fegato quando è bello bello grande non me ne mangio 3 barra 4 1 barra 2 sai con le cipolle un po di pane tutto quanto allora così e questa confezione essendo che comunque a casa mia nessun altro mangia il fegato anzi scappano quando vedono mangio il fegato perché carlina gabriele gli vengono iconati di vomito e carlina niente ma cos'è sto come fai a mangiare quello schifo allora sai scappano sono l'unico che lo mangio però io il fegato adesso non mi sono mai informato non so se il caso di farlo congelare non credo che si possa congelare il fegato magari se potrebbe ecco cucinare però può congelare cioè surgelare congelare il piatto già cucinato però in pratica quando trovo queste confezioni con 3 barra 4 bistecconi di fegato per me sono tanti allora a volte non le prendo perché dico metà le butto quello mi condiziona un pochettino ma non sono questi problemi della vita è invece quando si vanno a bella macelleria praticamente ben fornita da macellare di fiducia mi piace farmi fare sempre magari bretti di scelta di prima macellaio che conosco io non è che sia che cosa però se andate all'euro spin il macellaio molto bravo se ci parli un attimo glielo dici guarda mi fai un po di crita scelta qui ti prende un po di tempo dice guarda fatti un giro poi torna dopo che te la preparo però la carne non è maligna quindi così e poi ti fai fare fettine di fegato magari dice anche due bistecche di fegato e basta prendi solo quello che consumi non hai bisogno di sprecare roba e quindi quando sono già confezionati dal supermercato mettono sempre anche non so ad esempio le braciole di maiale bracioli di coppa confezione famiglia te ne mettono 10 dentro e dopo 10 bistecche e se obbligato a spendere comunque cinque euro perché si è obbligato a prendere 10 bistecche io dico fate le confezioni magari da tre bistecche una persona spende solamente due euro non è obbligato a prendere 10 bistecche ma non è per tircheria e che tutto sto consumismo tutto quanto fanno sempre queste confezioni grosse grosse pacchi non pacchi poi alla fine è chicca quando prende 10 bracioli di coppa chi cazzo le mangia 10 bracioli di coppa te deve fare poi congelare cioè nel senso così anche il pollo tutte queste cose non dovrebbe fare dei pacchi un po piccoli ma il mondo gira così e va bene così ma non è per discorso e che io non ho dei gusti alimentari uguali a mia moglie ad esempio mia moglie va adesso o mcdonald o in qualche piadineria degli orsi che hanno riaperto anche i ristoranti degli orsi allora la carlina ma lì io piuttosto che andare veramente mi faccio qualcosa mi faccio la puccia salentina con i pomodori ecco perché a me non piace quindi quando prendono magari non solo la trippa queste cose qua da mangiare logicamente per la mia quantità la prendo ma se prendo un po di più poi dopo viene buttata comunque a parte tutto per fortuna che i miei problemi sono solamente questi e non ci sono altri problemi ecco diciamo che sto periodo della vita sta andando abbastanza bene ma perché perché non ci sono neanche tantissime pretese tanto così mi piacerebbe ecco pensandoci farmi una bella settimana staccare una bella settimana non ho ancora fatto il piano delle ferie non ancora in mente di fare le ferie non ancora un piano ben ben predisposto ma magari concentrerò più le ferie tra la metà dell'anno e la fine dell'anno ecco non mi interessa farmi tre settimane consecutive dove lavoro io non è obbligatorio non mi sembra che sia obbligatorio fare tre settimane consecutive poi dovendo seguire anche tante cose come ad esempio la crescita della vegetazione tre settimane sarebbe un po come abbandonare a se stesso la crescita dell'erba e dopo tornerei che avrei tanta roba veramente da mettere a posto quindi magari anche dieci giorni o due settimane al massimo di ferie tanto per staccare dopo il resto unificare fare le ferie ecco magari attaccare a qualche ponte no magari c'è un ponte qualcosa fai che farti con tre giorni di ferie ti fa che fare magari una settimana ecco però proprio di ferie così ad agosto ecco non le farei neanche onestamente non le farei neanche non mi interessa le ferie di agosto per me agosto il momento sbagliato per fare le ferie c'è più gente in giro c'è la maxi stagione cosa molto più caro le ferie belle ragazzi giugno settembre c'è quel periodo lì però veramente la moglie però non vuole adesso questo giugno farò il trasloco tutto quanto e quindi tempo di mettere un po posto la casa si va però le prenderei ma veramente mi farei una settimana a viverone ragazzi proprio in campeggio così a viverone per me sarebbe fighissimo ma la moglie ma andiamo al mare così cosa ma alla fine cosa il mare cosa cambia da un lago la vita di lago è bellissima lo stesso se si vive a pieno lo stile di campeggio così perché poi dopo alla fine quando si va in campeggio che tu sei al mare che tu sei al lago che tu sei anche montagna scusate un po di allergia perché ci sono i salici qua chiedo scusa e no allora che tu sei al mare si vero il mare la sabbia il mare fa il bagno tutto quanto ok però io io sono una persona che socializzo abbastanza facilmente cioè premesso che comunque come ad esempio stasera sono una persona che cioè mi piace avere i miei momenti di pace anche quando vado al mare mi piace prendere farmi una passeggiata per i fatti miei soprattutto magari il mattino presto ecco le cinque le sei sono già in giro sugli scogli che mi guardo i granchi così e dopo sono pronto per riaffrontare la giornata frenetica marina però comunque che io sono al mare che io sono al lago che io sono che ne so vicino a garda anche sono in un qualunque campeggio io poi alla fine socializzo alla fine non è l'ambiente che si l'ambiente fa però proprio anche la compagnia che si creano sai quando si va in un campeggio conosci conosci vicino è tutto cerchi di capire chi è se gente brava che ne vale la pena perché magari qualcuno può essere anche scortese o può non stare simpatico non tutto il mondo non tutti siamo uguali in questo mondo allora non è che per forza tutti i vicini di tenda sono persone cordiali così io sono sempre stato abbastanza fortunato con i vicini di tenda abbiamo sempre fatto abbastanza comunella fino ad arrivare poi a fare le nostre bellissime belle grigliate sono immancabili quello ma anche queste spaghettate di mezzanotte queste improvvisate di andare non solo al mattino al bar e prendere due cavare di brioche portare le brioche fare colazione insieme oppure mettersi a giocare a carte o stare quelle serate a parlare insomma i bambini girano possono divertirsi con le biciclette tanto bene o male una certa ora il campeggio chiude le porte quindi bene o male gira la rava gira la fava stanno lì poi magari ci sono anche figli bambini dall'altra parte quindi c'è compagnia io mi diverto anche ecco se fossi al lago perché io socializzerei anche il lago e la vedrai anche una cosa comoda perché sei una vita di campeggio ma con l'agevolezza l'agevolezza di avere diciamo in un posto vicino anche se dovesse succedere qualcosa comunque c'è una qualunque bisogno anche solo bo cambio gli asciugamani perché se settimana ho bagnato tutti gli asciugamani cambio a 10 15 chilometri comunque sei a casa ti prendi tuoi asciugamani e ritorni nella vita totalmente di camping ecco hai la comodità ma sei vicino a casa logico non vedrai posti come la sardegna come magari che ne so le 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 bahamas ma alla fine a me onestamente anche andare al lago salire su una barchetta farmi il giro bello del lago con un esperto farmi anche la fristura di di lago sulla barca per me è già vacanza ma ha fatto come sono io poi non tutti siamo uguali però così proprio flash mi piacerebbe dire boh domenica sto weekend passiamo in campeggio prenotiamo primo campeggio sul lago di viverone quello che troviamo anche l'ultimo posto rullotta crezzata a farsi tre giorni e lunedì si va a lavorare a me avrebbe già bene in questo periodo bene 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 oggi è stata una giornata abbastanza allora sto meteo ha fatto un po quello che voleva ha fatto il temporale ha fatto caldo ha fatto freddo ha fatto il vento oggi ha fatto tutto è stato mix che conferma proprio il fatto che c'è il detto che dice il famosissimo detto di qualche filosofo che non mi ricordo più il nome che dice al cielo e al culo non si comanda filosofeggiamo qui proprio filosofia teoretica teoretica al cielo al culo non si comanda ciao 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 come ecco ecco e allora praticamente questo tempo un po incerto è un pochettino una noia con risultato che poi alla fine ha fatto ha fatto aumentare la l'umidità la percezione di umido c'è ancora ma niente prendiamo quello che c'è non è quello il problema adesso onestamente c'è un po di vento e domani vedremo che giornata sarà anche perché poi io il meteo guardo sempre il meteo aeronautica militare meteo a m biella perché io ho fatto anche il militare nell'aeronautica militare e ho visto che comunque sono molto ho visto come funzionano le stazioni meteo e tutto quanto mi fido di a m altri meteo invece per me sono poco affidabili nel senso quei meteo che magari fa le previsioni a a due tre settimane al mio parere poco e poco preciso un arco un arco di tempo così lungo meteo a m invece fa proprio oggi domani dopo domani quindi c'è se azzecca cioè dice che praticamente alle ore 17 30 comincia comincia a piovere in effetti è proprio proprio preciso io per lavoro lo uso molto il meteo almeno ma anche soprattutto per ciò che riguarda il diserbo come sappiamo il diserbare diserbare prevede dei tempi di azione del diserbo quindi c'è per non specare tempo e denaro cerco sempre di diserbare quando comunque beh prima di tutto siamo in una fascia di temperatura giusta ma le temperature e poi alla fine invece siamo lì sopra dei almeno 10 12 gradi si può già diserbare anche se sarebbe consigliabile tra i 16 e 30 gradi però c'è insomma cerco di accertarmi sempre che quando diciamo soprattutto quando magari diserbo proprio tanto con con macchinari ecco in maniera un po più macchinosa ecco non solamente con lo spalleggiato che le due i miei 40 litri di diserbante ecco quando proprio uso la cisterna tutto quanto cerco di fare in modo che comunque almeno nelle cinque ore dopo l'applicazione del diserbante non ci sia brutto tempo ecco che non ci sia acqua facendo così riesco a manutenere abbastanza controllato la vegetazione nei punti logicamente dove si può quindi ecco ho bisogno di un meteo affidabile tipo ad esempio adesso è sabato e io guardo già per lunedì se vedo che lunedì non so mi da pioggia al pomeriggio possa magari concentrare le mie opere di diserbo proprio prendi diserbo con diserbante ecco insomma tra le 9 e le 11 del mattino di quell'arco di tempo li posso fare l'applicazione diserbante nelle aree più più diciamo necessarie in maniera che poi dopo pomeriggio può anche piovere però comunque dopo a lungo a lungo andare nell'arco del due tre settimane comunque facciamo diminuire il volume di vegetali ecco quindi adottiamo questo controllo delle infestanti si dice così per il controllo delle infestanti logicamente ciao pier ciao in sardegna c'è una dieta ciao pier ecco in sardegna ma sei in vacanza che bello che bello chissà come si sta bene adesso in sardegna è lì lì non c'è bisogno tanto di diserbare come dicevo in sardegna siamo anche in una latitudine dove più una fascia mediterranea ecco cioè diserbare sarebbe veramente rovinare una macchia mediterranea comunque anche in sardegna si diserba in tutto il mondo si diserba ma logicamente le piante infestanti di quella latitudine sono nettamente diverse a quelle della nostra latitudine comunque e da noi nel biellese c'è un grande problema soprattutto per le piante infestanti quando siamo cioè insomma il diserbo si funziona nel senso che ci sono aree agricole extra agricole e urbane e e extra ormai pier ma ti sei trasferito lì ma dai ma la novità per me ma è per questo che da un po che non che insomma non ti vedevo ma dai ma che novità cioè sono molto contento comunque quello che sei in un posto bellissimo cioè ti faccio i miei migliori auguri cavoli auguri buone cose buona buona vita in sardegna cavoli e allora verrai a farti le vacanze a biella tutti da biella vorrebbero andare in vacanza in sardegna tu ci abiti tu vorrai prenderti un po di aria fresca a biella ma in bocca al lupo buone cose ma pensa guarda sono sono credente è stato coraggioso mi ricordo che abitavi in zona ponderano barra sandigliano in quelle zone io vorrei fatto sto passo bravo bravo la vita va sempre presa come se fosse un gioco e ora giochi in sardegna bravo bravo tanta felicità allora sono contento cavoli forse ecco un pizzico di invidia è proprio per dire cambiare il territorio cambiare stile di vita fare il periodo sabbatico quello forse non riuscirò mai a farlo però sicuramente hai valutato tutte le le cose da fare l'hai fatto nel migliore dei modi quindi cavoli spettacolo complimenti complimenti veramente allora verrò a vedere il tuo profilo per vedere è prego prego di solito saranno una volta all'anno e beh certo bene o male c'è un ritorno alle origini c'è sempre insomma come i piccioni viaggiatori noi piccioni viaggiatori facciano dei voli interminabili però noi magari non tutti sanno come funziona piccioni viaggiatore a proposito tanto il discorso del diserbo ormai lo accantoniamo perché comunque era un discorso che rischia di diventare troppo tecnico e niente poi ognuno ha la sua esperienza riguardo al diserbo meglio non andare mai troppo nel tecnico però ci sono situazioni di diserbo sempre da valutare di regione in regione ad ogni modo tutti troviamo sempre le valide soluzioni riguardo al diserbo ora cambiamo discorso per prendere una parentesi dei piccioni viaggiatori che magari qualcuno sa e qualcuno non sa per chi lo sa se magari sbaglierò a dire qualcosa me lo faccia notare per chi non lo sa magari lo spiego per quello che ne so io il discorso piccioni viaggiatore lo faccio perché comunque secondo me tutti quanti anche uno zingaro come me ecco praticamente abbiamo comunque un ritorno alle origini c'è sempre un bisogno di avere i piedi fermi e saldi su un territorio comunque che sentiamo che ci appartiene nel mio caso io sono figlio delle stelle io vivo sulla luna però comunque ecco come mi ha appunto di 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 così dice un punto fisso sono le prealpi che io sono abituato al panorama delle prealpi quando io vivo per un periodo in situazione dove non vedo le montagne che fanno da confine è come se mi mancasse un pochettino qualcosa allora quando dopo ritorno dai miei viaggi rivedo le prealpi dico sono tornato a casa guarda finalmente non c'è più l'orizzonte infinito vedo il mucrone vedo il monte bo tutto quanto ecco e con questo abbiamo tutti quanti ritorno alle origini quindi capisco che anche te caro pierre sei in sardegna ma una volta all'anno per motivi diciamo tecnici esigenze tecniche oppure anche esigenze proprio di svago decidi di ritornare dove comunque credo che sei cresciuto e con questo mi collego il discorso del piccione viaggiatore piccione viaggiatore sappiamo che i metodi di comunicazione prima di marconi c'era allora lo schiavetto che faceva da da sparta maratona tratta a portare via i messaggi per 42 chilometri 175 mesi o se no vince che vennero tutti atletici c'erano i piccioni viaggiatori ok la cosa romantica di scrivere un biglietto un messaggio poi faceva volare il piccione arriva al piccione allora piccione viaggiatore praticamente adesso se sbaglio corriggetemi erano dei piccioni che venivano praticamente portati dietro insieme insieme a sé nei propri viaggi dentro delle gabbie però quando si doveva mandare il messaggio a casa tipo magari non so sono arrivato in toscana il viaggio è andato tutto bene amore mio ci vediamo quando torno destra sinistra ecco una cosa del genere allora una persona affrontava un viaggio si porta dietro piccione dentro la gabbia passano settimana dopo doveva mandare un messaggio magari a casa alla moglie e dire guarda il mio lavoro in miniera finirà mi hanno detto così cosa usava un piccione viaggiatore perché il piccione è proprio veramente pazzesco come dei sensori non perde mai la arriva sempre esattamente al punto di partenza dove dove praticamente è nato dove è cresciuto quindi cosa succedeva io abito a sandigliano da sandigliano dal mio domicilio prendevo il piccione allevato e lo portavo dietro con me quando dovevo mandare un messaggio il piccione tornava indietro al domicilio di sandigliano e portava il messaggio così quella era la storia dei piccioni viaggiatori se ho sbagliato qualcosa mi raccomando correggetemi ma mi sembra che sia così quindi avendo questa appartenenza il piccione praticamente veniva portato con sé e per mandare dei messaggi di dove il piccione doveva arrivare c'è tipo c'erano i piccioni che arrivavano alle poste i piccioni che arrivavano nei punti più importanti diciamo del paese da dove tu prelevavi il piccione eri sicuro che il messaggio ritornava quel punto così perché il piccione a questa capacità di avere il senso di orientamento ritornava esattamente appunto da dove comunque lui era stato addestrato e così è andato avanti per tantissimo tempo ora 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 poi ritorna la sua gabbia così e questo l'ho detto per dimostrare che anche noi siamo un po dei piccioni viaggiatori e quel col piccione e il piccione che si chiama rocco di nuovo mi si è scurito perché mi si scurisce sta merda che non mi vedo bene ragazzi mamma mia pochettino così pochettino di flash ora mi vedo un po meglio però però mi vedo troppo patinato cavoli così sono troppo scuro madonna stasera devo capire ancora sta impostazione e questa è la storia del piccione perché tutti quanti no secondo me abbiamo sta voglia di esplorare di uscire di fare ma poi alla fine secondo me la maggior parte delle persone ci sentiamo anche uno zingaro anche uno zingaro lo zingaro comunque prendiamo esempio non so di qualunque gipsi o comunque gaji c'è non gaji sinti circensi quello che vuoi alla fine anche una famosa moira orfei che la famiglia orfei ha girato il mondo dappertutto con i suoi spettacoli circensi e tutto sono famiglie zingare da che poi dopo tutto dire zingaro potrebbe essere offensivo perché si parla di popolazione sinti loro sono famiglie sinte comunque la moira orfei lei che ha fatto spettacoli in tutta italia con i suoi tendoni tutto alla fine lei si sentiva a casa quando era dentro la sua roulotte che poi la sua roulotte fosse stata un giorno a palermo un giorno a padova l'altro giorno a zurigo lei comunque aveva bisogno sempre di questo rientro nella sua nella sua normalità nella sua alcova e parliamo di famiglie zingare che hanno girato il mondo quindi credo che tutti quanti noi proprio una cosa umana abbiamo bisogno di di avere dei punti fermi di poter ritornare quindi anche io nel mio caso me proprio di stile di vita ho deciso che quattro anni c'è nella stessa casa non riesco a stare niente io proprio non ce la faccio devo cambiare devo cambiare stile devo cambiare modo perché così però ripeto sono nato in questo territorio un territorio subalpino e anche se le mie origini non sono piemontesi perché il cognome angeli a origini tedesche infatti mio nonno era tedesco e però noi siamo noi angeli diciamo siamo praticamente non di origini piemontese cioè anzi stando guardare ogni generazione nato in un paese diverso ad esempio mio nonno è nato a nella val di non insomma in questa terra bilingue che si chiama cloz era nato fu nato a cloz vicino cless in trentino alto adige terra bilingue insomma praticamente lì già zona di jodel e di proprio alto tesino no crucco i crucchi brutto dire crucchi però insomma sì simpaticamente si possono chiamare così mio nonno era un crucco poi mio padre quindi suo figlio è nato a milano c'entra niente col trentino quindi non possiamo dire di essere né tedeschi né insomma non pare nato milano è stato per anni a milano così però po io e mio fratello si è nati a biella quindi c'è la prima generazione di piemontesi che siamo noi nel piemonte ma il sangue non è piemontese non siamo come tipo non so ramella pralungo che sono 14 generazioni di piemonte noi abbiamo già tre generazioni tre posti di nascita differenti mio figlio è nato a vercelli a borgosesia quindi anche il mio bimbo è nato così e chissà come proseguirà sta cosa ecco quindi come mi dicono che origini hai io non ho origini momentaneamente sono ciao battista siamo riusciti a mantenerla diretta oggi ci siamo visti di sfuggita c'erano anche altre macchine che diceva ma cos'ha da gesticolare quello lì invece ti salutavo ti dicevo ciao battista abbiamo siamo riusciti a mantenere la nostra promessa di farla di rettina serale in amicizia e ecco ti vorrei vedere come ho detto salmone ma guarda ma lascia perdere lascia perdere guarda ti farei vedere i miei pantaloni in pratica ecco non so se si notano sono comunque tipo colore salmone una tristezza assurda proprio veramente io ho un'alta repulsione per il colore salmone e beh allora abbiamo anche luca bella val di no ci sono stato a scalare allora prima di tutto ciao luca ciao caro saluto anche un mio caro amico mio caro artista gillo il max che spero oltretutto di vedere le nostre belle serate di karaoke ciao gillo ecco ti ecco ti sapevo che arrivavi ciao caro ma mi rilasso sto un po nella natura però vado a casa non sono ancora pronto ad affrontare il logorio della vita moderna di andare in un bar adesso mi gusto ancora un po di natura allora luca mi scrive bella la val di non ci sono stato a scalare anni fa lo so che tu avevi hai ancora sta passione della camminata e di scalare è una cosa che io non farei mai onestamente la vedo una cosa difficile pericolosa però il il piacere vedere certi posti sicuramente giustifica i come era il detto il fine giustifica i mezzi una cosa del genere in questo detto non lo conosco bene però mi sembra che sia così il fine giustifica i mezzi così quindi tu sicuramente avendo fatto questo divertimento barra fatica di scalare visto delle cose che comunque ti sono rimasti impresse confermo che la val di non è una bella è una bella zona una bella dal vivo non ci sono mai stato purtroppo non sono stato così mondano da avere visitato anche val di non la mia terra di origine che oltretutto mio zio c'è ancora la casa lì ancora a casa lui ma non ho mai visitata so che comunque è un bellissimo posto pieno di cultura ed è uno dei posti dove ancora adesso ci sono i su spratter su spratter sono avete presente quei 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 balli tirolesi tipo che faceva vedere bud spencer e terrensil che si danno quelle finte sberle così ecco la val di non c'è questa caratteristica che lì ci sono è una delle prime zone del tirolo dove comunque c'è i su spratter e il mio nonno era insomma faceva anche quello faceva anche quello anche lui era di questa danza tradizionale della val di non è tutta tutto da scoprire tutti quanti diciamo la val di non le mele ecco lo sprudel in realtà anche quel popolo lì è un popolo veramente meraviglioso mi è stato confermato da chi ci va e e gente ospitale gente gente bella viva la val di non logicamente se parli tedesco sei più ben accetto lì sono un po zone bilingue ma vabbè comunque italia quindi io vado lì parlo italiano però po se ecco se qualche ristorante mi fa mi fa le storie niente che se ne vada pure ecco a quel paese ecco non vado in quel ristorante no ma queste cose razziste non ci sono no lì ancora magari una volta sì ma ormai siamo così espansi di mentalità che solamente magari in certi punti c'è qualcuno ancora tradizionalista che che va a fare il tedesco in territorio italiano per il resto anzi sono benvenuti quelli che spendono e che consumano ragazzi allora io mi sto vedendo buissimo probabilmente che voi mi vedete buio perché logicamente una certa il sole se ne va e direi quindi che è il caso che interrompo la diretta perché dopo diventa tutto tutto buio che non mi piace anche se gli argomenti potevano essere tanti ma va bene va bene così per oggi allora vi ringrazio della compagnia vi abbraccio tutti quanti con tanto affetto e ci vediamo prestissimo per la prossima diretta magari la prossima ecco mentre cuciniamo qualche piatto ci facciamo ancora due risate insieme un abbraccio a tutti ragazzi statemi bene e buona serata ciao